Sui lavori di recupero dell'ex area sensi nel porto di Crotone contiamo sul lavoro operoso e sinergico delle istituzioni e autorità preposte per consentire l'apertura del cantiere di demolizione dei vecchi manufatti e a seguire la caratterizzazione dell'area per i lavori di bonifica. Sono passaggi fondamentali per restituire decoro e bellezza a un'area che potrà collegare Porto Vecchio e Porto Nuovo. Crediamo fortemente nello sviluppo di questa infrastruttura nel diportismo, nella cantieristica, nel settore croceristico e nella valorizzazione delle imprese già operanti nella nostra realtà portuale. Così Mario Spanò, a margine dell'incontro avuto a Crotone, con il presidente dell'autorità di sistema portuale Andrea Agostinelli, l'assessore del comune di Crotone Maria Bruni e il consigliere di Confindustria Crotone Francesco Mazzei. Seguiamo con molta attenzione il lavoro puntuale che il presidente Agostinelli con impegno sta svolgendo nel territorio per configurare al meglio le potenzialità del porto. Per Confindustria Crotone e Porto Aeroporto sono nodi fondamentali a cui devono essere collegati reti infrastrutturali moderni. La mobilità è fondamentale per lo sviluppo. Persone, merce e dati devono potersi muovere su infrastrutture materiali e immateriali adeguate per generare impresa, lavoro e quindi benessere. Prima usciamo da questo isolamento e prima riusciremo a diventare un territorio accogliente per giovani e imprese.